Il rapporto 2019 sui confidi italiani, il tema è il sistema dei confidi alla luce di un certo indicatore di bilancio. Pronto, sono visibile? Assolutamente sì. Va bene, allora vi ringrazio, inizio subito. Un attimo che stiamo caricando i contenuti. Ecco esatto, chiedevo appunto questo alla regia. Ecco, va bene. Intanto vorrei ringraziare appunto la regia che ci permette quest'anno in questa situazione particolare di trasmettere in questo mondo innovativo e che tra l'altro è molto soddisfacente. Voglio ringraziare anche Torino Finanza, tutti quelli che stanno partecipando alle tavole rotonde, i nostri ospiti e soprattutto voi che ci state seguendo. Vedo in questo momento siamo 227 online e vi ringrazio tutti. Adesso andrò brevemente a introdurre i risultati della ricerca di quest'anno sull'analisi dei bilanci dei confidi italiani partendo da una piccola nota metodologica per poi arrivare ai dati. Intanto vedo che sta impazzendo la presentazione. Ok, cominciamo di qua. Questa è la prima. Allora, l'analisi di quest'anno si riferisce ai confidi iscritti al 31-12 del 2019, all'albo 106 e all'elenco 112 Banca d'Italia. Il censimento ci dice che a questa data i confidi totali in Italia erano 311, di cui 35 confidi maggiori, 11,3% del totale, e 276 confidi minori, l'88,7% del totale. I confidi maggiori sono distribuiti su 15 regioni italiani, sono come abbiamo visto soltanto poco più dell'11% del totale per numerica, ma rappresentano il 66% dello stock di garanzie emesse. La loro concentrazione è soprattutto sulle regioni del nord, dove si situano per il 60%, a scalare poi centro e mezzogiorno. I confidi minori invece sono più diffusi sul territorio nazionale, questi 276 sono ripartiti su tutte quante le regioni del territorio nazionale, per numerica sono concentrati soprattutto nelle regioni del mezzogiorno, per poi seguire con nord e centro. Allora, per la selezione del campione, partendo da questo che abbiamo appena presentato, che è diverso del mercato delle garanzie italiano, abbiamo come ogni anno adottato tre criteri, quello della rappresentatività dimensionale, cioè definire un campione in grado di coprire una fetta consistente del mercato in termini di garanzie in essere, quella della rappresentatività geografica, cioè avere il più possibile un campione composto da confidi che provengono da tutte le aree e tutte le regioni d'Italia, e la confrontabilità dei dati, cioè selezionare un campione di confidi la cui reportistica sia sufficientemente trasparente e conforme ad alcuni standard. Quest'anno sono stati selezionati come confidi, in coerenza con gli anni precedenti, come confidi appartenenti al campione, gli iscritti all'albo 106 di Banca d'Italia. Perché? Perché sono pochi in termini di numerica, 35 come abbiamo visto nella slide precedente, ma rappresentano il 66% di storie di garanzie. Hanno una buona distribuzione sul territorio nazionale, 15 regioni su 20 come abbiamo visto nella slide precedente, e hanno uno standard di reportistica e contabile di bilancio molto elevato. Ecco quindi il nostro campione d'analisi, 35 confidi, 21 del nord Italia, 8 sul centro Italia e 6 localizzati nelle regioni del Mezzogiorno. Alcune novità dell'analisi di quest'anno rispetto a quelle delle precedenti. Allora, la copertura, diciamo così, del mercato è la più elevata che siamo mai riusciti a raggiungere. Gli stop di garanzie rappresentati all'interno del nostro campione di 35 confidi è del 66% del totale. E poi vediamo altri 200% che sono sempre bei numeri da mostrare. Il primo si riferisce al fatto che i 35 confidi del campione rappresentano la totalità dei confidi maggiori, nessuno è stato escluso. L'analisi quindi, oltre che rappresentare una porzione significativa dell'universo del mercato delle garanzie, è anche, al contempo, una fotografia puntuale del mercato dei confidi maggiori. Inoltre un altro dato interessante è che tutti i 35 confidi del campione sono interni all'elenco dei soggetti garanti autorizzati ai sensi della parte 14 delle disposizioni operative del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI. Chi entra quest'anno e chi esce nel campione? Come abbiamo visto sono 35 i confidi complessivi, ce ne sono quindi due in più dell'anno scorso. Ne abbiamo tre che entrano e uno che esce. Entrano Consorzio Veneto Garanziae, Unico, Marche e Finpromoter. Questi confidi sono stati esclusi fino all'anno precedente dalle rilevazioni, in quanto era stato giudicato, che la loro operatività fosse ancora prevalentemente di secondo grado. Con l'evoluzione dei modelli di business questi confidi hanno molto modificato la loro operatività, non come salto discreto, ma come processo che è durato anni. Ma a partire dai bilanci 2018 abbiamo ritenuto come ricercatori più corretto inserirli all'interno del campione. Esce invece Unifidi, Emilia Romagna, che ha seguito dell'aggregazione per incorporazione con Artigian Credito Toscano. Cambia un pochino anche il set di indicatori. Infatti il decreto di riforma del Fondo di Garanzia per le PMI ha introdotto, come sappiamo, un nuovo sistema di valutazione composto da 8 KPI. Sistema di valutazione finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei soggetti garanti autorizzati. 6 di questi KPI sono utilizzati per la valutazione degli aspetti gestionali del confidi, mentre altri 2 per la valutazione degli aspetti amministrativi nella gestione dei rapporti col Fondo Centrale di Garanzia. Noi ci siamo concentrati ovviamente sul gruppo dei 6 per la valutazione degli aspetti gestionali del confidi e abbiamo deciso di inserirli all'interno del nostro set di KPI per la valutazione dei confidi per una serie di ragioni. La prima perché sono elaborabili a partire dal bilancio di esercizio, quindi sono molto facilmente computabili. Si ispirano oltretutto ad indicatori di assessment già proposti, come anticipavano prima il presidente e volato il presidente Rambaldi nell'edizione del 2017 del nostro osservatorio di Torino Finanza sui confidi e inoltre ci è sembrato molto coerente allinearci a questo sistema di valutazione per dare una fotografia del mercato più coerente anche con quella che è in possesso delle istituzioni e a disposizione del pubblico. Si mantengono però, si viene mantenuta l'impostazione generale del nostro osservatorio. Per cui il nostro set di KPI andrà, come sempre, a valutare la solidità patrimoniale dei confidi, la gestione del rischio e la sostenibilità economica degli stessi. In questo slide che segue c'è un elenco degli 11 indicatori ripartiti sulle tre aree di indagine con indicazione di quali sono quelli nuovi. Sono 8 quelli nuovi sui totali di 11, quindi c'è stata una profonda revisione. 6 di questi 8, come anticipato precedentemente, sono mutuati da quelli del nuovo set di indicatori del Fondo di Centrali di Garanzia per le PMI. Altri due sono delle rielaborazioni di dati che abbiamo deciso di introdurre. Nelle slide successive andrò ora a presentare una panoramica più sintetica e più esaustiva possibile dei risultati derivanti dal calcolo di questi 11 indicatori sui 35 bilanci del confidi del campione. Allora cominciamo con un'analisi su fondi propri e patrimonio netto. La maggior parte dei confidi maggiori registra una diminuzione sia di fondi propri che di patrimonio netto, anche se a livello di sistema le consistenze risultano sostanzialmente stabili. Cosa è successo nel 2018 rispetto al 2017? A livelli, in termini assoluti e a livello cumulato sul sistema, dei confidi maggiori, abbiamo un totale di fondi propri che aumenta del 2%, quindi aumenta, dato positivo, ma di poco, e un totale patrimonio netto che diminuisce di poco, anche in questo caso ancora meno, meno 0,5%. Andando però a vedere la distribuzione dei confidi in base alle variazioni del 2018 rispetto al 2017, vediamo che questi dati che sembrano sostanzialmente stabili sono un pochino più preoccupanti, anche se assolutamente non drammatici. Il 66% dei confidi registra una diminuzione di fondi propri e il 74% una diminuzione di patrimonio netto. Perché vediamo quindi consistenze sostanzialmente stabili o anche in aumento in caso di fondi propri? Perché chiaramente c'è molta varianza nelle variazioni che sono su fondi propri e patrimonio netto da un confidi all'altro, alcuni aumenti di patrimonializzazione sono stati molto consistenti e chiaramente vanno a rafforzare il sistema che però comunque mostra le sue debolezze in quanto la maggior parte dei confidi all'interno dei loro bilanci vedono la diminuzione. La solidità patrimoniale però rimane molto elevata, non solo elevata, molto elevata. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Il sistema nel suo complesso infatti risulta avere un surplus di patrimonializzazione. Vediamo prima i dati, poi approfondiamo. Abbiamo diviso per tre anni, quindi a partire dal 2016 fino al 2018, i confidi in gruppi, in cluster a seconda del livello, a seconda del valore di TCR, di total capital ratio ottenuto. Abbiamo, scusate, abbiamo identificato come il gruppo con TCR fra 6 e 8% come confidi con solidità patrimoniale subottimale. Ben inteso, è tutto sopra il limite legale, quindi non ci sono allarmi rossi. Tuttavia nel passato abbiamo avuto modo di vedere che i confidi che si situano in questa fascia come TCR tendono ad avere poi delle difficoltà negli anni successivi. Abbiamo poi la seconda fascia, quella in arancione, quella giudicata a solidità sufficiente, cioè fra 8 e 10% di TCR. E poi a salire, solidità adeguata fra 10 e 25% e solidità più che adeguata, oltre il 25% di TCR. La misura limite e chiave che abbiamo individuato come ricercatori è quella del 10%. Faccio questa piccola premessa. A nostro giudizio, in base all'esperienza di quanto è successo in passato, reputiamo che il 10% sia un livello minimo di sicurezza per il TCR dei confidi. Sebbene anche un livello che sta fra il 10 e il 6% sia perfettamente legale e adeguato, abbiamo visto in passato che confidi che si situano in questa fascia possono avere delle difficoltà negli esercizi successivi. E quindi abbiamo individuato questo 10% come limite minimo di adeguatezza. Ora, quello che vediamo è che la grandissima maggioranza dei confidi si situa sopra questo limite del 10%. Stiamo parlando del 97% dei confidi del campione nel 2018, che conferma il 2017 anch'esso al 97%, addirittura nel 2016 erano al 100%. C'è però un elemento che va evidenziato in questa fase. Molti confidi, stiamo parlando di circa un terzo, presentano una solidità patrimoniale oltre il 25%. Da un certo punto di vista questo dato è molto positivo, nel senso trattasi di confidi molto solidi dal punto di vista patrimoniale, sono molti sul mercato e quindi questo è un dato di sicurezza e di stabilità del mercato. Da un altro punto di vista però si può evidenziare un dato un po' più discutibile. insomma, una patrimonializzazione così elevata può essere in qualche caso risultante da un sottoutilizzo di patrimonio, ovvero confidi che vanno ad accumulare una patrimonializzazione così elevata potrebbero arrivare o essere in corso di un processo in cui vengono sostanzialmente emesse poche garanzie. Questo può essere derivante da una politica di gestione del rischio, che in fase di aumento dei tassi di decadimento è comprensibile, ma può essere anche indici di una debolezza dal punto di vista commerciale. La garanzia è un prodotto sussiario, devono esistere i crediti perché esistono le garanzie sui crediti. Abbiamo visto prima nella presentazione sempre illuminante del dottor Finaldi Russo come le dinamiche di crediti non stiano andando bene, i confidi molto probabilmente stanno patendo queste dinamiche. Quindi come leggere questa slide? Bene, i confidi italiani sono molto solidi, attenzione, potrebbero avere delle difficoltà commerciali. Questa dinamica non è nuova. In questa nuova slide siamo andati ad evidenziare la variazione, il delta, dei valori di TCR fra il 2016 e il 2018. Quello che è venuto fuori è che il 66% dei confidi ha aumentato il proprio TCR, a conferma di quanto visto nella slide precedente. La media di aumento di TCR è del 13,02%, in aumento rispetto alla media che avevamo presentato l'anno scorso che era dell'8%. Questo cosa determina? Determina, come anticipavamo, un surplus di patrimonializzazione. In questa slide, che andiamo adesso a presentare, abbiamo le consistenze di milioni di euro e delle ripartizioni per cluster dei fondi propri liberi. Definisco subito che cosa intendiamo per fondi propri liberi. intendiamo la quantità di fondi propri che fanno riferimento a ciò che cede un 10% di copertura del rischio. Ovvero, come sappiamo, il total capital ratio è un rapporto che mette in rapporto appunto i fondi propri con i rischi assunti, l'RWA, insomma. Andando a porre un TCR al 10% che è il nostro limite di adeguatezza individuato arbitrariamente in base alle esperienze passate, siamo andati a verificare, a calcolare, quant'è in termini assoluti l'importo dei fondi liberi che fanno riferimento appunto a questo eccesso sopra il 10% di TCR. Sono molti. A livello di sistema in Italia, stiamo di confidi maggiori, stiamo parlando di 656 milioni di euro nel 2018, in crescita, con un tasso medio di crescita annua di quasi il 5% dal 2016, primo anno di riluazione, ad oggi. Le consistenze quindi sono molto elevate, ma non solo, sono anche molto concentrate. Infatti nel grafico a ciambella multiplo, che è presentato al centro della slide, cosa andiamo a evidenziare? Quante, chi possiede, insomma, chi fra i confidi possiede questi fondi propri liberi? Abbiamo preso l'elenco dei 35 confidi e abbiamo fatto un rank, un rank partendo da chi ne ha di più a chi ne ha di meno. E quello che è venuto fuori è che il top 10 di questo rank dei confidi possiede il 64% di questi fondi propri liberi. E andando avanti, cioè restringendo il campo verso i confidi rankati più in alto in questa classifica, abbiamo che il top 5 dei confidi, quindi soli 5 confidi sul mercato detengono il 44% di fondi liberi e addirittura i primi due del rank ne detengono il 21%. Quindi grande surplus di risorse patrimoniali non utilizzate per emettere nuove garanzie, in crescita costante al 2016 e con forte distribuzione su alcuni player. Andando sempre, rimanendo sempre sull'analisi della solidità patrimoniale andiamo a analizzare il nuovo KPI che ha introdotto quest'anno dell'adeguatezza patrimoniale che sostanzialmente è quello che abbiamo in passato nel 2017 chiamato Paratcr perché mette a confronto i fondi propri e i rischi assunti dai confidi utilizzando delle grandezze adeguate a valutare con gli stessi dati sia i confidi maggiori che i confidi minori. Per questa ragione una sorta di Paratcr. Anche in questo caso abbiamo individuato quattro cluster associati a un giudizio qualitativo e viene giudicata un'adeguatezza patrimoniale più che adeguata per valori di KPI sopra il 18%, adeguata per valori compresi fra il 10% e il 18% e poi a scendere sufficiente e subottimale fino ad arrivare al 6%. Ecco anche in questo caso vediamo una grande solidità del sistema il 94% dei confidi maggiori presenta un'adeguatezza patrimoniale con valore superiore al 18% e il restante 6% che è una piccola fetta comunque rimane sopra il 10% nessuno si situa secondo questo KPI sotto il 10% quindi grande adeguatezza della solidità patrimoniale dei confidi maggiori. Andando avanti passiamo a un'analisi della gestione del rischio questo indicatore che andiamo a presentare anche questo di nuova introduzione si chiama solidità prospettica la solidità prospettica è un rapporto che mette in relazione il tasso di decadimento del singolo confidi con il tasso di decadimento benchmark per il confidi analizzato e il tasso di decadimento benchmark è stato individuato come il tasso annuale di decadimento regionale delle società non finanziarie e famiglie produttrici con un fido minore o uguale a 125.000 euro. Qua i dati cominciano a farsi un pochino più negativi. Vediamo infatti che il 57% dei confidi del campione quindi più della metà ha valori rientranti all'interno del cluster considerato subottimale cioè valori superiori al 100%. Cosa vuol dire? Vuol dire che per questi confidi più della metà il tasso di decadimento proprio calcolato dal bilancio del confidi è superiore rispetto al tasso benchmark. non è un dato positivo ma dal lato positivo c'è che questa distribuzione qua è molto polarizzata vediamo infatti che comunque un terzo dei confidi risulta avere una solidità prospettica più che adeguata quindi dati in peggioramento non ancora compromessi questo però è un dato molto importante perché il contenimento del tasso di decadimento per i confidi sostanzialmente è quello che va a dare un'indicazione lead su quella che sarà l'esposizione nel futuro e quindi la solidità nel futuro. La solvibilità del sistema è invece molto elevata il sistema nel suo complesso presenta un ampio surplus di liquidità allora questo indicatore che è chiamato solvibilità anche dal fondo centrale per le piccole e medie imprese è un semplice rapporto che mette in relazione le attività con le attività breve con le passività breve ne deriva una percentuale che va a definire qual è la solvibilità del confidi cioè la capacità di rispondere alle obbligazioni assunte la solvibilità è considerata più che adeguata quando il valore del rapporto è superiore a 200% adeguata fra 150 e 200% e a scendere ovviamente subottimale nel caso in cui sia sotto il 100% ora i dati che vediamo come distribuzione per cluster sono molto buoni da un certo punto di vista il 100% dei confidi nel 2018 ha una solvibilità adeguata o più che adeguata e questi dati sono in crescita erano già positivi nel 2016 e nel 2017 ma sono comunque in crescita per la maggior parte dei confidi la principale causa è l'elevata solvibilità risiede in un rapporto di in un elevato importo di attività liquide a fronte di basse consistenze di passività ora il fatto che nel 2018 ben il 91% dei confidi avesse una solvibilità con dei valori superiori al 200% ci ha suggerito di andare un po' più a fondo nell'analisi in questa slide siamo andati a definire degli altri sotto cluster tutti interni a questo grossissimo cluster del 91% che viene riprodotto nel grafico a ciambella nella corona più interna di confidi che hanno una solvibilità superiore al 200% ora siamo andati a vedere quanti sono in percentuale i confidi che hanno un valore di solvibilità del 400% quindi un per due rispetto a questa soglia di più che adeguatezza individuata nella slide precedente quali sono quelli che hanno un rapporto sopra il 1000% quindi un per 5 e addirittura quelli che ce l'hanno sopra il 2000% quindi un per 10 rispetto alla soglia individuata come di più che adeguatezza ecco sono molti perché vediamo che il 53% dei confidi del campione sta a un per due quindi a solvibilità maggiore o uguale 400% il 24% del campione sta a per 5 quindi con solvibilità maggiore o uguale 1000% e il 12% del campione sta addirittura a una solvibilità maggiore o uguale al 2000% passiamo ora all'analisi dei dati economici qua cominciano diciamo i commenti le evidenze un po' più negatine non è una novità che i confidi negli ultimi anni abbiano difficoltà a produrre a costruire valore nel 2018 vediamo però una grossa diminuzione nel 2018 il margine operativo core cumulato sui confidi maggiori arriva a quasi 17 milioni di euro di negativo è un grosso salto rispetto agli anni precedenti in cui vediamo nel 2016 era accumulato un totale di 7 milioni che scende che scende saliva a 8 nel 2017 ma questo è un salto proprio discreto nel 2018 la perita in termini di margine operativo core è aumentata del 1515% nel 2018 rispetto al 2017 e cumulata sui tre anni arriva a quasi 32 milioni di euro ora andando a fare qualche altra analisi su questi dati vediamo che come distribuzione di confidi nel 2018 il margine operativo core è negativo per il 77% dei confidi e positivo soltanto per il 23% meno di un quarto dei confidi crea del margine operativo core positivo e tra l'altro la grande maggioranza peggiora la propria performance rispetto all'anno precedente vediamo infatti 83% a un delta 2018 su 2017 negativo e la creazione di valore nel triennio in esame 2016 e 2018 esiste soltanto per un quinto dei confidi il 20% il restante 80% non è riuscito a creare valore in questo in questo triennio la sostenibilità economica è in netto peggioramento non ci stupisce avendo visto anche i dati della site precedente che cos'è la sostenibilità economica due parole perché è un indicatore nuovo di quelli mutuati dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese trattasi di un rapporto fra le spese del confidi spese amministrative quindi quelle che per approssimazione vengono considerati i costi operativi e il margine di intermediazione ora vediamo che questo rapporto qua questo cost income ratio così come viene chiamato ha dei valori presenta dei valori subottimali nel 2018 per il 46% dei confidi del campione valori subottimali considerati nel caso in cui sono quelli superiori al 110% ovvero quelli in cui i costi operativi sono più che pari ai costi al margine di intermediazione abbiamo ancora poi un 29% nel 2018 che presenta un cost income ratio sufficiente che vuol dire sostanzialmente un pareggio fra costi e margine di intermediazione e soltanto un 25% un quarto dei confidi con un rapporto di cost income adeguato questi dati sono in peggioramento il gruppo dei virtuosi nel 2016 comprendeva il 60% dei confidi si è ridotto nel 2017 al 51% e si è ulteriormente ridotto di mezz'anno sia nel 2018 al 25% questi dati sono ulteriormente peggiori se andiamo a isolare l'attività di di sola emissione di garanzie ovvero andando a considerare lo stesso indicatore c'è un cost income ratio ma dove il denominatore non consideriamo tutto il margine di intermediazione ma soltanto le commissioni nette quindi derivanti dalle attività di emissione di garanzie i dati peggiorano rispetto alla slide precedente abbiamo un valore subottimale per il 69% dei confidi del campione soltanto il 12% presenta valori adeguati o più che adeguati e anche in questo caso i dati sono in peggioramento rispetto al 2016 o 2017 un'ultima considerazione e poi mi taccio di confronto su queste ultime due slide il fatto che i dati di sostenibilità economica relativi al core business cioè quelli della presente slide siano peggiori rispetto a quelli dell'attività nel suo complesso ovvero quelli della precedente slide ci dà delle informazioni queste informazioni sono che probabilmente un certo numero di confidi con attività diverse dalle emissioni da garanzia è in grado di avere dei revenue stream che migliorano la situazione di sostenibilità economica del proprio business vi ringrazio passo la parola ai colleghi Vescina e Dauria che seguono via